Non importa dove sia installato, Samsung Outdoor Display garantisce sempre la massima performance. Samsung Outdoor Display è stato progettato per adattarsi e resistere alla polvere e alle alte temperature. Lo schermo funziona perfettamente anche dove tutto il resto si congela. Nemmeno le piogge torrenziali sono un problema per Samsung Outdoor Display. Che sia un vento siberiano o un uragano, Samsung Outdoor Display non teme nulla. Magic Class garantisce la massima protezione dello schermo. I danni da fattori esterni vi preoccupano? Grazie alla certificazione IP56 e alla resistenza all'acqua potete stare tranquilli. Garantisce infatti un'incredibile durata e immagini nitide anche sotto la luce solare diretta, grazie al pannello che resiste fino a 110 gradi. E anche quando il caldo picchia forte, Samsung Outdoor Display garantisce performance costanti, grazie al sistema di raffreddamento che mantiene la temperatura stabile. Per distinguersi e farsi notare, Samsung Outdoor Display assicura definizione e luminosità incredibili. Grazie al Magic Protection Glass di Samsung, i display appaiono leggibili e senza riflessi, anche quando sottoposti a luce abbagliante. Nemmeno gli occhiali da sole polarizzati possono prevalere sulla visibilità dei display Samsung Outdoor Display. Godetevi le meraviglie del nero più profondo, del bianco più luminoso e di una visibilità perfetta anche in pieno sole. Scoprite il miracolo di Magic Glass, capace di annullare ogni riflesso sul display. E grazie alla tecnologia polarizzante, la visibilità rimane perfetta anche con gli occhiali da sole. La totale flessibilità e la facilità di installazione fanno di Samsung Outdoor Display un'eccezionale soluzione outdoor. Entra anche tu a far parte del mondo Samsung Outdoor Display. Tutte le funzionalità sono incluse nel design più sottile che possiate immaginare. Grazie a tutti.